Noi siamo molto contenti, non lo nascondiamo, perché finalmente riteniamo che sia stata fatta, almeno in questa fase, giustizia e quindi che la democrazia cominci ad avere un significato non soltanto sulla carta. Ovviamente noi facciamo presente che non abbiamo mai detto che non vogliamo il referendum, anzi abbiamo fatto questo ricorso proprio perché vogliamo il referendum, rispettando la legge del Rio. Quindi questo referendum deve essere preventivo rispetto all'iter che i due comuni dovranno avviare. E d'altronde questo lo abbiamo comunicato ottobre facendo una diffida legale, chiedendo agli vari enti, ognuno per le proprie delibere, di annullarle in autotutela. Quindi avrebbero potuto seguire questo iter perché abbiamo spiegato in queste diffide quello che poi abbiamo dovuto scrivere nel ricorso. E' proprio il fatto che c'era un'illegalità di fondo. Quindi noi siamo felicissimi di questa decisione oggi presa dal TAR, riteniamo che sia stata fatta giustizia nell'interesse del nostro comune e dei nostri cittadini. E aspettiamo di fare questo referendum ma seguendo la legge.